Il Trapani Comics & Games, attesissimo evento dell'anno, ha alzato il sipario ieri e proseguirà fino a domani presso la Villa Margherita. La prima giornata ha offerto un assaggio dell'ampia varietà di intrattenimento e attività che il festival proporrà nei prossimi giorni, dall'apertura ufficiale agli spettacoli sul palco principale. Attenzione anche ai più piccoli che hanno avuto l'opportunità di divertirsi nell'area kids con attività ricreative, lezioni di disegno su personaggi come Spider-Man e Monster High e uno spettacolo di bolle di sapone. La musica e le esibizioni dal vivo non sono mancate con spettacoli K-pop, quiz a tema anime e uno straordinario Disney Tribute Show curato dall'associazione Art Factory per chiudere la serata. In questa quinta edizione un'ampia espositiva è dedicata ai principali editori di fumetti e case editrici di narrativa, offrendo l'opportunità di incontrare autori, acquistare le loro opere e partecipare a sessioni di firma. L'intrattenimento videoludico ha un ruolo di primo piano con area dedicata ai videogiochi. Postazioni per console next-gen e pc, tornei sfide con pro player e maxi schermi per le competizioni rendono quest'area un paradiso per i gamer. La Kermess ospita anche numerosi celebri content creator e influencer del panorama nerd italiano. Youtuber, streamer, tiktoker e performer terranno meet and greet showcase, live di gioco e contenuti esclusivi per interagire con i loro fan presenti. Una vera attrazione del festival è l'alunno filatelico in edizione limitata realizzato in collaborazione con poste italiane. Ho incastrato, diciamo così, la storia dei supereroi con la storia della scienza perché sono da sempre state le mie due grandi passioni. Quindi io ho letto fumetti fin da quando avevo cinque anni, ho continuato a leggere, li leggo tuttora e proprio leggendo i fumetti, i fumetti dei supereroi, io ho deciso, mi ricordo ancora, ero una delle scuole elementari, di diventare scienziato perché mi avevano affascinato gli scienziati raccontati nei fumetti. E quindi a un certo punto, quando ho avuto questa occasione di unire le due cose e quindi raccontare la scienza e gli scienziati nei fumetti, è stato un sogno che si è avverato. A dei giovani aspiranti scelizzatori di fumetti consiglierei, nelle ultime ho utilizzato tantissimo di storie perché le storie nascono da altre storie e nella maniera giusta di inventare una storia, a volte poi in una storia che già c'è, cambiare l'inizio, cambiare il finale e poi cambiare la parte in mezzo, ed è così davvero. Lo diceva anche Alfredo Castelli a cui ho dedicato questa sala di conferenze. No, non tristi davvero di storie, cioè continuare a leggere, guardare e poi fare questo esercizio che è molto semplice e naturale. Quando state leggendo una storia, quando state vendendo un film, una serie, un episodio, provate a immaginare da soli come potremmo andare a finire.